Allora a tutti gente e benvenuti in questo nuovo sponsor time Ok, il primo canale che vedete è quello di SPG Channel Che ha 300 iscritti E andiamo a vedere un video suo Che dura, come sempre, 3 minuti Ops, non sono dietro? Ah no, no, lo vedo io Bene, quindi Guardetemi così, 3 minuti Benvenuti ragazzi, siamo qui con il terzo episodio sul canale di SPG Insieme al nostro Sharp79 Eccoli qua ragazzi che mi sono appena infilato il cappello Allora, sto bello anche senza perché non mi ho preso i tuoi schiaffoni Allora abbiamo deciso Che invece dei 5 episodi ne facciamo 3 Tanto per il video lo presti quindi Poi registrare 5 episodi sarebbe un po' un problema con tutti quanti Pure per il fattore di tempo Pure per il fattore che gli devo passare i file Siamo veramente tanto 18 a disco Già stiamo a 40 giga perché la registra stiamo a registrare Ancora il primo episodio di 1080p 60fps quindi è una persona mafro La vero Allora ci chiamo subito il giocatore L'ultima partita la farei Erika, vediamo un po' di città Quest'anno io vi ho avuto E' un po' di città E' un po' di città E' un po' di città E' un po' di l'altra cosa 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 Dai oddio Guardate che ho preso Che schiacci endro-scaravaggio Ma non mi viene Va dai Gargamentuali succede che un po' spagna ossa spagna ossa spagna ossa figlio non è un mio soccato ora ora la tua ma che è un programma torna sia un assassino se non malato non sa quante forze pensa che sono molto paramboli minuto portaci per la teglia dice che cazzo che ragazzo un geniale questo personaggio con lei che chiusa a farlo guarda ogni è possibile impossibile guarda guarda no se le palle se le palle vai con questo non portava dal dio se c'è stato capo che cazzo ha fatto io mi tratterei così ok patali tata tata facile facile saluttanate ecco la fatale oddio 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 che dolore ma no ma come se vale che cazzo io ho fatto c'è ma abbatta la grafica ok ragazzi anche questo è finito ho fatto durare anche dieci secondi in più per la fatality perché le fatality sono sempre belle da vedere siete d'accordo? ok il canale è qui questo qui spg channel ricordatevelo ricordatevelo e adesso andiamo al prossimo canale alcuni canali di sponsorizzo sul computer portatile perché alcuni canali qua non vengono non so il perché pure i titoli di mezzo giusto eh ma adesso andiamo a perdere ok il prossimo canale che mi sa che è la non so terza volta che lo sponsorizzo eh massi 34 io ritorno capita io ritorno eh un attimo vabbè andiamo un attimo qui no sponsorizzazione carai 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 ah ecco questo video che ho partecipato anch'io però come resista questo è il nostro nuovo il 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 ragazzi noi siamo i free gamers e questo è il nostro primo video oggi faremo una sfida una challenge precisamente ed è chi ride per primo con l'acqua in bocca perde bella challenge un bel nome ragazzi non so come facciamo boh come quella che ha fatto claus'a anima ecco quella la quindi a tra poco Le regole sono Allora, qua come vedete c'è una bellissima contenella Io, Massi e Mr. T Ci riempiremo l'acqua di bocca Certo, la bocca e gli acqua E quando rideremo dovremo per forza sputarla E a chi la dobbiamo sputare? Al compagno di fianco E sarà una brutta cosa Ok, adesso ci sarà anche un cambio di programma Visto che Mr. T non farà questa sfida Ma ci farà bidarmo la cameraman Il nostro amico Sabin Ci aiuterà dando filtre di video Se li funziona Se no ci guarderemo E al primo che ridere si becca Una sfidata in faccia Bene, iniziamo Togli mi posta il video intanto Ok, non è solo a caso Non conoscerete tutti Cosa vi ho provato a dire Aspettate Fermi, tre Tre, due Uno Uno Que esquifo Que esquifo Ragazzi andiamo al secondo tentativo Per adesso ho vinto io Ma cosa è successo? Per adesso ho vinto io Per adesso Se arriva tre Tre round Uno lo vinto io Grazie a te Ragazzi perderò io Cioè anche se ho tenuto l'acqua in bocca di Fischer Al capitale E' acqua tossica Tre Due Uno Via Non c'è Un c'è Un c'è Un c'è Un c'è Un c'è che il suo canale li sarò anch'io qualche volta e adesso andiamo al prossimo canale allora metto le lettere dove cavolo è la... guarda qua un po' le lettere non le vedo bene il prossimo canale è di Jack Osmondino ragazzi che è più difficile da dire ok dire di far vedere il video questo qua questo video non ha senso è una risposta alla sfida del duo dell'idioto di Jack Dex ma non ho proprio idee ragazzi secondo me che cosa potrei fare? ma eh no un attimo che ha messo questi cartelli fuori della mia casa vuoi fare un video scemo per la sfida dell'idioto del duo? ma certo allora segui ah come seguiamo 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 le freccioline segui ok capito fa un'acqua che bello un altro cartello chissà che mai dirà segui e vabbiamo scarde alla montagna un cheers via taglia on non inc Jones 3 puliti qu pouco scrii vocal che si è coliso 810 non lo ha mai visto premiacibuilding lo amante si fa che succede sкая è una sorpresa ok ma il buon anno cioè in questo mondo di lana io che cacchio dovrei fare trova qualcosa che ti dà la lana e va bene però prima fammi cambiare game mode 0 ok per fortuna mi ha armato il cazzoio ho una cosa che mi dà la lana ecco fa to scemo ho detto qualcosa che ti dà la lana no una cosa di lana ma un po' postato un cretino però che cosa mi dia la lana questo pezzo di lana rossa no non è il punto dove scavare ne sono proprio convinto chi è il più bravo a fare recensioni jackdell super cosmo shodown ah ma so già la risposta che è più bravo prima di rispondere vieni un precinto con una cosa che ti dà la lana ancora con questa cosa che ti dà la lana ma basta ok qualcosa mi dice che devo scavare nell'albero no no l'albero no va bene dai scaviamo qui sotto su anche se credo che sia un tranello cosa mai potrà esserci qui orzo buttiamoci a oh che male occhio alla lava di lana è pericolosa ma quale lava di lana scatta scatta brucia brucia la lava di lana è pericolosissima aiuto ma come faccio a superarla vola vola ah giusto è vero quindi dammi un attimo tempo di cambiare la volta creativa voliamo e apriamo questo baule cosa non ci sarà dentro mmm spawn ah ok nuovo di pecora no ha iniziato a piovere oh mio dio questo mondo adesso si restringe essendo fatto tutta di lana che gran casino devo rimediare prima che il mondo diventi piccolissimo ti leader clear ok abbiamo salvato questo piccolo mondo di lana dal biostra ambientale beh ma video tipo simpatico quindi ricordatevi sul canale di jackos modino che nome complicato ok andiamo al quarto canale ok niente cavolata eh ok il era vai con il canale di Tony Gamer dove l'acquisto mmm meglio dare un'occhiata un attimo allora vediamo un po' ma se non mi hanno controllato sul computer prima che poi facciano il tono sbagliato ah trovato mmm ok questo non è questo non è questo non è neanche 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 questo neanche questo neanche questo neanche questo neanche oh che di cavolo di Tony Gamer si sono a meno che non è sempre lui che si ne ha fatto il nome ma di cavolo ma di cavolo di Tony Gamer si sono un po' troppi vabbè sapete cosa vi dico visto che non riesco a trovare il Tony Gamer giusto e qualsiasi sono troppi direi di passare al prossimo canale al massimo lo potrò rigio anche il suo computer portatile eh purtroppo non ciò che farei così ok andiamo su questo altro canale ah lo ho sbugliato eccolo qua si ho pati che 69 24 esperitti quindi datemi una mano beh lui fa minecraft purtroppo più o meno ok si vediamo che ho accumulato altri video ah mi ripresi un chiede ero andato che stupido ok qua questo due minuti ho fatto durare scusate raga la parte precedente era interrotta scusate adesso lo mangerò tutto non d'un botto tranquilli eh 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 un mieterio metterasino un mieterio metterasino a 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 Grazie ok basta forse era meglio che seguiva un altro video si era meglio comunque il canale super lo vedete il nome siropatiche 69 andate a scriver andate a iscrivervi al suo canale e dateli qualche consiglio va fa sempre comodo ok andiamo al prossimo gente non è questo canale ma visto che c'è già il nome in Daniele forse prima ok ecco qua il canale di Daniele ma si di Anne che ha ah c'è un altro ma quanto pare mi tocca di nuovo andare a vedere allora ok il canale è questo qua un iscritto ma forse questo qua è il secondo canale non lo so dunque questo è il canale ho un iscritto e come video faccio questo qua che è veloce va meglio grazie a tutti no 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 ok Facile e veloce Ok andiamo al prossimo canale Ok, ok Ok, bene Ops Ah, un attimo, non ho chiesto di nuovo e tutto quanto all'inizio, ok allora. Bene, ecco qua il canale di Yuri DRAGONOS, chissà se l'ho detto giusto, vabbè, non importa. Ah, 97 iscritti, 97, il video che vado a far vedere è, vediamo, direi questo, due minuti. Sì, adesso con i draghi soggio stiamo su questi giocchi bastardi, quindi sicuro lo conoscerete, per sfidare Herminds. Mi è venuto in mente così, mi sono stato detto stamattina, ho deciso di sfidare Herminds a questo gioco, praticamente cosa non esiste. Io devo fare questo di vento, oppure lui lo devo fare, e chi fra, praticamente è chi fra il protegge migliore. Adesso cominciamo. Ah, è una giocata. Venga, ferito. Venga, ferito. Ah, è un gioco. 3 3 3 3 3 4 4 4 5 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 6 6 6 7 7 8 8 10 12 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 9 10 9 10 12 12 12 11 12 12 12 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 14 15 16 16 15 15 16 17 22 22 23 Grazie a tutti. 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 Se volete...